Dai ricercatori scientifici che hanno brevettato Nivea Luminos, il siero antimacchie numero uno in Europa, che riduce le macchie del 50% dopo otto settimane, arriva alla routine completa. Siero, crema giorno e crema notte, che radduppia l'efficacia antimacchie. Unisciti al milione di donne che già usa Nivea Luminos Antimacchie per una pelle più uniforme.